Gentili telespettatori, buona giornata. E così il PD dice che la crescita del debito pubblico è inarrestabile e il governo non sta facendo nulla per invertire questa tendenza, dice Antonio Misiani, responsabile economico del PD. Mentre si parla di un quadro oggettivamente preoccupante che regge a fatica solo grazie al buon andamento delle entrate, legato essenzialmente la crescita delle ritenute IRPEF alla fonte. Il debito pubblico italiano ha visto crescere in giugno, è cresciuto in giugno di altri 30,3 miliardi, siamo arrivati a 2.948 miliardi di debito, siamo a due passi dalla soglia dei 3.000 miliardi di debito e questo è molto più alto del PIL italiano, quella che è la creazione di ricchezza. Quindi abbiamo più debito di più debito di PIL e il debito pubblico italiano continua a crescere, continua. Per esempio dopo l'accusa del PD al governo di non fermare il debito subito i giornali di destra si sono adoperati per dire che durante gli anni del governo di sinistra il debito pubblico è aumentato di 1.000 miliardi, quindi che il predicozzo sull'aumento del debito pubblico viene fatto da chi ha fatto come questo governo debito pubblico. Quindi chi ha fatto debito pubblico critica oggi il governo che fa debito pubblico. Ma il debito pubblico lo hanno fatto tutti i governi a partire dal primo giorno della nascita della Repubblica Italiana. Debito, debito, debito. Adesso io non lo so ma un giorno il Paese potrebbe anche dichiarare il fallimento e non vedete più BOT, non vedete più CCT, non vi pagano più le pensioni, non pagano più gli stipendi degli statali. Insomma il fallimento dell'Italia potrebbe anche arrivare dato che l'Italia tecnicamente è già un Paese fallito. Quando il debito supera la produzione di ricchezza cioè il PIL, tu sei già fallito, sei tecnicamente fallito. dall'altra parte aumentano le entrate fiscali. Quindi c'è un record. Le entrate nelle casse sono 248,8 miliardi di euro. 17,5 miliardi in più rispetto al confronto con i primi sei mesi del 2022. Più 7,5%. Mentre se si guarda ai dati del solo mese di giugno le entrate sono arrivate a 42 miliardi in aumento del 9,9-3,8 miliardi in più. La sinistra dice che sono soldi tolti agli italiani. In realtà la cosa bisogna vederla in un altro modo. Il giornale scrive che questi soldi in più sono dovuti al fisco amico. Ma quale fisco amico? Il fisco amico. Ma quale fisco amico? Sono dovuti, questo lo potete raccontare al popolino, ma non c'entra niente, il fisco amico. Questi soldi che entrano in più entrano perché ci sono oltre mezzo milione di persone che lavorano in più e quindi pagano le tasse, come le aziende pagano le tasse su questo oltre mezzo milione di lavoratori in più. Quindi ci sono più occupati, più entrate fiscali. Il fisco amico ve lo tenete voi. Perché non c'è il fisco amico. Quante balle che raccontano agli elettori. Mamma mia. Mamma mia che roba. Ma andiamo. Non è finita. E poi scrivono che negli ultimi cinque anni scende drasticamente l'evasione fiscale dal 21 al 16%. Uno Stato finalmente amico e alleato dei contribuenti, grazie alle riforme del governo Meloni che hanno semplificato efficacemente il fisco. No. Negli ultimi cinque anni i dati usciranno a fine 2025. I dati ufficiali usciranno a fine 2025. Oggi sono disponibili i dati dal 2016 al 2021. Quindi, visto che continuano a strombazzare che l'evasione fiscale è scesa dal 21 al 16% negli ultimi cinque anni omettono di dire che sono gli ultimi cinque anni disponibili come dati che sono fino al 2021 quando questo governo non esisteva. E' furbacchioni. Dite gli ultimi cinque anni l'evasione fiscale è scesa senza finire la frase che sono gli ultimi cinque anni disponibili fino al 2021 quando il governo non c'era. Sì, ma quest'anno si sono recuperati dall'evasione fiscale 24 miliardi. Momento, momento. I dati ufficiali ci saranno a fine 2025, primi mesi del 2026. A quel punto magari questo governo avrà diminuito l'evasione fiscale ancora di più di quella fino al 2021. Però non ci appropriamo dei dati riferiti ad altri governi. Se no, si fanno delle figure veramente barbine. O almeno, chissà, chi ragiona, chi conosce i dati dice Mamma mia, ma che fanno? Mi prendono in giro? Mamma mia, come state? Ecco, quindi va bene, ci sono più entrate fiscali, ok, ma non è il fisco amico. E' i lavoratori che ci sono in più in Italia. Gli ultimi cinque anni scende l'evasione fiscale? Sì, ma sono gli ultimi cinque anni fino al 2021. Insomma, non raccontate le balle. Il fisco amico, gli ultimi cinque anni. State giocando sul fatto che la gente che lavora non ha tempo per stare a approfondire questi temi. E se voi leggete un giornale così, dite Ah, il fisco amico ha portato 18 miliardi in più. Caspita, il fisco amico. Wow, il fisco amico. L'evasione fiscale negli ultimi cinque anni è scesa. Ah, cavolo, che successi! E poi non c'entra niente, né il fisco amico e i dati sono fino al 2021. Insomma, non è bello sentire questa presa in giro verso l'elettorato da parte di politici e giornali compiacenti che poi si mettono d'accordo e raccontano la stessa storia di Babbo Natale. Bisogna dire le cose come stanno perché le bugie hanno le gambe corte. E queste cose, come le vedo io, le cominciano a vedere in tanti e dicono, io sono stufo di farmi prendere in giro da questa gente qua. Arrivederci a tutti e grazie.